Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale Buona visione Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo diciannovesimo episodio della Egglock, Pokemon, Diamante e Perla, qui con noi abbiamo il mitico Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo episodio della Pokemon, Diamante e Perla e Egglock Mi saluti Berry? Eh no Lo stai già rivoltando? No 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 sto parlando ora Ok perfetto io invece si Ragazzi Arceus Ha mandato in campo Arceus Iniziamo bene ragazzi No tia Dia loro che cosa andremo a fare quest'oggi porco Aspetta mi spieghi con che logica ho usato Psicoraggio su Umbreon Ma anche tu Sì E evidentemente l'episodio dell'altra volta che è sul canale mio ti ha un pochino deturpato a livello psichico È abbastanza Ok io perfetto sto tipo distruggendo il povero Berry HTA ciclista Grodon Minchia Arceus è Grodon ma stai scherzando? Scusami Tozzle Ma non ci credo No io ho campane in squadra che tra l'altro non ho neanche allenato Minchia tu comunque sei un disastro Ah si ragazzi ho allenato ovviamente SoundCloud dello scorso episodio Ascolta ma ha chiamato quella rompipalle della bonus Minchia giudizio di magneton così out of nowhere Ok io tipo velocizzando il tutto ho stravinto Tu non so come sei conciato Comunque Tia che cosa faremo? Hai detto Cosa? Giraffarig Ah ok Ok ho vinto Ok raga Queste cose qua non sono apprezzate sul mio canale quindi Eh vabbè Cioè raga provateci voi a registrare 12 episodi in due giorni Tia Puoi gentilmente dire al pubblico È mezz'ora che te lo chiedo Che cosa Non hai finito una frase Che cosa andiamo a fare dopo aver battuto Berry Visto che tanto l'avranno capito che in questo episodio avremmo battuto Berry Isola Ferrosa E poi la palestra nel mio canale Isola Ferrosas Perfetto Sì no fa bene Ferrosas Ferrosas Ok io sto andando sulla barca Oggi ho controllato chi è il comandante Ah però cosa racconto raga Io sono stato sulla Concordia Tipo l'anno prima che affondasse il capitano era schettino A proposito Cazzo che peccato Tutti i miei amici Figlio di Troia Ha scoppio ritardato No ho realizzato dopo Intanto posso fare tipo l'immigrato Tipo tutti i miei amici sono venuti con la MN Anna Swag Comunque raga ovviamente ripeto per l'ultima volta Ripetiamo per l'ultima volta che stiamo scherzando Dicendo tutte queste cose Non prendetele serio No più che altro Cioè allora gli iscritti lo sanno Il problema è se arriva qualcuno per sbaglio dai canali fuori Tipo da YouTube in generale Lo vanno diretto E' fisso Ok io sono all'isola Ferrosas Quindi nulla Faccio la cattura Tia Tra l'altro Figa figurati se mi ricordo la strada di sto posto Ah ma tra l'altro qua ci danno anche l'audio di Riolu Cosa facciamo lo contiamo No lo contiamo A parte che ho trovato executor quindi shalla Un re la cattura è lui Si no ma nel senso Eh forse No 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 forse non avrei dovuto fargli fragor tempo stab vero tia Forse Forse è steccato Oddio no 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 è sopravvissuto No pull neve Efficacia per 4 su Garchomp Fermo 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 Ok No Ok Cazzo non mi ero ricordato che fragor tempo mi faceva aspettare un turno prima di ripartirmi Io ho fortress Se questo coso Cosa Se questo coso esplosione come al solito non è randomizzata esplosione Smadonna Ok in teoria Allora tecnicamente dovrebbe randomizzarla In pratica potrebbe anche randomizzartela sempre con esplosione Eh Pugno spine Bello pugno spine Beh No figa ma congelato serena Madonna va in ibernazione Non ho mai mosse Preso Io non ho mosse scarse Per indebolire il pokemon Noto come giungla in moto Cosa È È Executor È noto come giungla in moto Cazzozza Ce lo vedi Executor può accompagnare solo Io ce lo vedo tantissimo Ma guarda Non mi indebolisco io sto Coso Medina qualche mossa non troppo cancerogena Ma stai Ricordami i tipi di fortress Che non me ne ricordo mai nella vita Faccia io con le ottero Roccia con le ottero Con le ottero Basta Eh oddio se è roccia un po' un problema Perché a pugno scarica lo tengo Eh Io il pokemon Non mi ricordo Eh Putti in realtà faceva clash royale Prima di fare stasera Ovvio Oh ho scoperto con 4 repellenti out of nowhere Perfetto Beh che anche tu non ce lo ricordi È chiaro certo Però loro lo sanno sul mio canale Che faccio poco o no Eh perché io cazzo faccio Eh Clash royale Ed è ovvio Figa ragazzi Sì è tipo acciaio Quindi io Teoricamente pugno scarica Non dovrei fargli tanto Minchia regi Stil che due coglioni Quando mandano in campo Non ho fatto niente Cioè letteralmente Ok io intanto Penso di aver sbagliato strada Però ormai sono qua E sono Oh cazzo Porco schifo No No ma dai Che è morto No nessuno Solo che merda fallisce Magifuoco L'hai detto come se fosse dispiaciuto Che non è morto Eh effettivamente ho bisogno di clip Porca Perché ha fallito 15 Magifuoco di fila sto idiota Anche questa andrebbe contata come bestemmia Visto che sto insultando una divinità Però oh ce l'ho fatta Ok l'ho catturato comunque Oh minchia Che sofferenza E lo dice a me Con sto coso infame Zio Sai che mi ha fallito C Tre Tre Magifuoco di fila Tu sei la tua sinistra o a destra Io a sinistra Ma è la strada sbagliata Vai a destra Sì lo so No ma perché di qua ci sono gli strumenti Eh io E io non so Non so Non so le strade Finito l'effetto è repellente Non si può nel problema Ne attiviamo un altro Quindi tu Ma tu li hai comprati No 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 Io ho scoperto di averceli È diverso Eh io non c'è gli ordini Io ho scoperto dal nulla Di averceli Perché ho sbagliato pure strada Perché sei sbagliato nel cervello Cogliona Eh beh Per fare video con te ci credo Per fare il video con un Con un accalappiatore Di Di bimbi Fantastico Che fa raga Speriamo che si capisca Che ci insultiamo Entei A proposito di A proposito Prima che poi arriva qualcuno Mi insultate Fate pure le serie insieme Infatti Poi oddio ci sono dei youtuber Che in questa serie Abbiamo insultato sul serio Vabbè ma sono al di fuori Della serie Ok Certo A parte Luke Che si incroca Altra che la cegra ninja Levatevi Vabbè forse Ancogli tanto No vabbè Non è vero Alcuni Tipo ambi Ogni tanto L'abbiamo citato Non c'entra niente Vabbè sì ok Ma quelli che sono Nel nostro gruppo Un conto Gli altri Fanno merda Gli altri Gli altri Sono ovviamente Tutti insulti Fai di squadrismo Vabbè Ovviamente raga Perché è come se loro Non lo facessero Ovviamente raga Si scherza Non è che fuori dal nostro Gruppo fanno tutti schifo Alcuni sì Cioè Diciamo C'è l'avvocato Ti posso far censurare Un po' E fare una lista No dai Non farlo Ti fa piacere Che poi in realtà Ne ho due Da dire No tre Io ne ho Ne ho un franco Da dire È presente I rotoloni regina Ecco Non basterebbero Esatto Ma stai scrivendo Stai scrivendo Il dissing Dei tuoi Dei tuoi youtuber Eh sì Ma non hai bisogno Di un foglio No I rotoloni regina Sono infiniti Non bastano comunque Come i dissing In queste serie Come gli anni di carcere Che dovrei beccarmi Per che cosa Esponicelo Eh E per Diciamo Aver Avvicinato Persone Dalla giovine età Per pederastia Ecco Pederastia Di che colore le vuoi le manette Eh Ho anche la scelta Di che colore le vuoi le manette Te le porto al games week dai Colore violaceo Se riesci Ok Per il games week me le procuro Ok perfetto Raga se lo fa Voglio Voglio un vlog Di quelli cattivi Lo faccio Il problema è che posso reperire solo in un sexy show Vorrei delle manette Per Sadomaso Eh no È per un mio amico E come Sabbè non giudichiamo i tuoi gusti Però per Sadomaso Vabbè Quando dentro una mia amica ho capito Tanto sappiamo che sono le femmine Quelle che hanno più in mente ste cose Non è che Eh Dillo Serena Sono le femmine che hanno più di questo tipo Quindi Dillo Serena Poi vediamo Mica Serena con È un po' Oh è un po' Era un qualche episodio che non la pigliamo per il culo No È peccato Eh infatti Con la coda te le Con il nastrino che le ha regalato Ash Perfetto Cos'è ignoranza Tra l'altro zi mi sa che mi sono perso di nuovo Ho sbagliato di nuovo strada Fossi il cranio E il terzo fosse E sono arrivato dal tipo di cui non ricordo mai il nome Marisio No Marisio è un'altra persona Marisio è lui Ma non è Marisio Super 4 Ma non è randomizzato il nome statico no? No 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 Marisio anche da me quindi no E allora Creepy decide di unirsi in matrimonio a Marisio Perfetto Possiamo perseguire E ora è un po' troppo grande per te Eh sì Ma infatti è matrimonio Cos'è che era sopra i 15 anni Non ti vanno bene È matrimonio di copertura Ah ok Cioè è presente quel tipo Sembra un bravo ragazzo È presente tipo nell'amore cortese Della letteratura Che la donna è sposata con l'uomo E poi si scopa il cavaliere Ecco più o meno questo Solo che il mio cavaliere Diciamo Un po' più un fante Un infante più che altro Ok Comunque quanto Perché non ho fatto imparare Velenpuntura Venustore sono scemo No comunque Quanto è bello Quando sei in tag battle Con altri Con altre persone Li fai morire anche il suo pokemon Fregandosene Dato che non è troppo Quanto è bello Quando missi la battaglia in doppio E sfidi un biduff in singolo Ma io ho bello Sto biduff Ok affrontiamo pure l'altro Ebete con la barba Perfetto Saluto a tutti i nostri amici hipster A casa Lucario Donna Ace trainer Perfetto È un montanaro Sicuramente non è Ace trainer Sicuramente non è donna Hashtag Quanto scopa il montanaro Ecco non Se voglia Domo fossi Domo fossi Abbiamo un fossi da testo ora Io ne ho tre Vai tu Ah E li ero persi Io ne ho tre di fossi O comunque adesso Qua lo dico raga Merda È uno dei più scarsi Che abbia mai avuto All'interno delle mie serie C'ho una paura Quando lo mando in campo Che è allucinante Praticamente sto giocando Con cinque pokemon Tu dove sei adesso? Sto battendo le due fantallenatrici Che poi forse uno è un maschio Ma non ne so Fanta allenatrici Del sesso Ecco perfetto Forte Forte un uovo E vai Ma sai Forse anche io C'era un forte un uovo Tra l'altro Mi è venuto un accento bergamasco Senza motivo E vai C'è ok Che i miei Sono di origini bergamasche Però ragazzi Ti accenti Cancleon e centrat Perché ha magma Perché il tipo Che sta lottando con noi Non ha un secondo pokemon Come non ha un secondo pokemon Ah Eh si Viene a solucario Anche nel gioco Davvero Da te chi è Scusami Non mi ricordo Se ci è venuto grave Come non ti ricordi Che cazzo È morto Io ero ucciso Io con terremoto Il mio c'ha clay fairy Puoi andare in giro Con un clay fairy In squadra Dai È bellissimo Ma è un tumore Un tumore Un tumore con i pedali Tra l'altro Con i pedali Tra l'altro Mi ha schippato Le ball O best E io Io sto cercando Fai un hyperrage Su sto snizzle Fallisce Palestrato Beh dai palestrato Oh oh merda C'è merda C'è merda Posso rubargli il porno Ok ho rischiato No non puoi rubargli il porno Tra l'altro sai cosa vuol dire porno In spagnolo No Cannano Spagnolo Spinello Spinello Capisci perché ora ti rappresenta quel porno Eh certo Chiaro Perché ho usato il giudizio su Bastiodon Per Hai usato Ha usato lui No 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 tia No 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 Cosa Destino obbligato su Serena Me l'ha fatta schiattare No No Non ci credo Perché Me l'ha stuprata No No regalo Qua apriamo una petizione Se questo video arriva a 500 like La rianimiamo comunque Ma vaffanculo Darkrai vuole imparare Splash Tua madre Che gioca Che gioca Clash No Non ci credo Vedi che però Cristo Quando ti dicevo che le mie morti Sono morti di merda Destino obbligato è una mossa Eh Anche 69 è una mossa Non nominarlo dopo che Serena è morta Che è un insulto Lei piaceva Perché non riesco a mantenere serietà Perché ci sono io con te a fare il video Dai A parte che abbiamo pareggiato adesso Che merda È vero Cazzo esulti che è morta la tua waifu Eh vabbè Microfilia Entra 24 ore è ancora buona Cazzo sto dicendo Non lo so Ma io l'uovo glielo lascio qui Fa niente Non ritorno mai più a prendere l'uovo Ma va ma quando mai Tra l'altro io sono bloccato all'interno della grotta Perché Cristo Dio c'ho sto fetish Di dover affrontare qualsiasi forma di vita presente nella grotta Dai che due coglioni Azzelfe octileri Oh porco schifo Aspetta un secondo Ok niente Pensavo che tipo la registrazione fosse saltata Stavo già per bestemmiare in quattro lingue L'Espiguin Tra l'altro per il prossimo episodio Boh raga vi farò trovare un Pokémon a Muzzo in squadra A sto punto C'è il primo che mi capita Che merda tia No la mia Serena è arrivata al Max Che cazzo Me ne te lo posso dare a Serena No veramente Sono avvidito Ok io sono uscito comunque E io Chiogre guarda C'ha meno leggendari Il bimbo di merda Che gioca a Horus Con i cazzo di cheat Malcomune Malcomune tua madre No spesso Per dissare un'altra volta Ho evitato Chi stavi per dissare E Aspetta mi sono preso Cheat Cheat cosa? Lo censuri se lo dico Va bene dai si censura Lo censuri Si vai Perché lui? Pokémon citati Ah ok Ok perfetto Un saluto Un saluto al dissato di turno A nessuno perché se lo dici Ecco No perché bastava l'aggettivo sbagliato Si sarebbe capito Eh cazzo è vero E niente E niente io sono Ho trovato un leggendario Ho trovato Ho trovato due A Due Azelf Che mi affrontano come selvatici Perché Cri Non si scappa La biblioteca è dopo la palestra Sì sì che arriva Barry che inizia a correre Ascolta Fai silenzio Fai silenzio sto bestemmiando Fai silenzio sto bestemmiando Dentro Ci vuole tipo concentrazione per bestemmiare Oh ziz Sto episodio viene più lungo Non ci posso fare nulla Sì sì Già ti non sto facendo niente Eh schiudi l'uovo no? Tia Trainer Stai bestemmiando interiormente Per cui non parlo No stavo laggando Stavo laggando Ok Ok perfetto raga È tornato tra i viventi L'uovo lo stai schiudendo Ah cazzo è vero Eh raga tra l'altro Sto laggando tantissimo Però Sti cazzi Muori Oddish Olè Ok Che cosa è successo? No tipo Ho visto un calcio in volo Partire da un ubero Mi sono fatto la cacca d'osso Sei morto? No nessuno C'è umbron che si è suicidato Con calcio in volo Va bene così Scisor Tua madre Alla digos Dai muori Cesoria Olè perfetto Perché Cesoria Così dal nulla? Perché sento Perché quando chiude le gambe Taglia No ok Non lo dirò Non lo dirò Minchia Ok no Contro Garciam C'ho paura a tenere merda Perché Eh sì no ci sono Ci sono ci sono Sto bestemmiando interiormente Stai laggando Cioè è presente che In buru Ok non ho sentito Vabbè ma vicino a Milano è quasi tutto fibra eh Cioè arriva da me che sono a 50 kg Sì il problema non è che me la me la me la ficcano nel culo la fibra Cioè Eh volevo Mi spieghi Scusa una cosa Chi cazzo di master è con versione 2? Non lo sai che non ho mai capito l'utilità Porca madosca Tre Quattrocento E quello l'ho capito però No 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 ti a ti a piango Ti a no ti a piango Adesso mi metto a piangere Eh ragazzi io lo sento laggare Vabbè raga questo episodio Questo episodio lo proseguo da solo E nulla Adesso andiamo a Si sta a scrivere Ma tanto loro mi sentono bene teoricamente Sì 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 Parlo da solo Mi sembra un'ottima idea Trico Onesto Ma ne ho già trovato un altro di Trico? Non lo so Non mi ricordo più Non ne ho idea Non ne ho assolutamente idea Perché è maschio Volevo chiamarlo foglia E maschio Minchia perché devi chiamarlo foglia Cristo Dio Perché devi chiamarlo foglia Mi è sempre piaciuto foglia su Trico Ok Allora dai lo chiamo Posso chiamarlo Darkrai Perché ne ha stupratto uno alla Lega? Ma fai il cazzo che ti pare Il gioco è tuo? Come il bambino Cioè scusate Come se lo chiamo? Allora aspetta Aspetta che devo depositare No raga è schiatata Serena Zia la sostituisco con Lusinda Cosa? Serena la sostituisco con Lusinda Stai laggando? Vabbè loro hanno capito Tu ascolterei nel video Io Cristo E intanto Non so il nome per Trico Eeeh Non lo so Tanto se lo dico laggo Quindi che cazzo lo dico a fare Che è ludicola? Raga è spettacolare quando si lagga Veramente Non capisco niente Comunque Sti cazzi Sti cazzi Sti cazzi Serena Eeeh Poi che altro Vediamo Eeeh Spighetto Gran personaggio Spighetto Cioè io capisco solo il nome Ho capito Spighetto E Iris Spighetto Gran personaggio Bianco e nero Spighetto Gran personaggio Bianco e nero È il miglior anime Pokémon Mai uscito Non stai laggando più Per tua sfortuna Ah Eh Ho detto tipo che Iris È meglio di Serena Che Che Spighetto È il miglior personaggio Poco ho mai fatto Che ho trovato un Magikarp Nel Cristo di Uovo Un Magikarp a testa Ciao Questo qua raga Faccio un tributo A uno degli YouTuber Che mi ha fatto iniziare A giocare a Pokémon Lo chiamo Axo Così lo metto nei tag Tra l'altro lo sto chiamando Boba Baxo Lo sto chiamando E' un episodio che mi sta arrivando A casa Ok Bene ragazzi Per ovvie ragioni Faccio vedere il Moonset Di Magikarp Giusto per Farvi capire Ok Magikarp terrificante No non è vero C'è del bello Ma sto scherzando Ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Se così vi invitiamo Come al solito C'è un commento Di iscrizione al canale Scusate l'altro veloce Ma deve andare via Tia Quindi Che altro Passate i social In descrizione E premete la campanella Di entrambi i canali Per rimanere sempre aggiornati Il prossimo episodio Sarà sul canale di Tia Quindi andatelo a vedere E noi ragazzi Ci bechiamo in un prossimo Video Ciao raga Ciao